amici del canale youtube di dub logistica un caro saluto a tutti e bentornati al nostro consueto appuntamento del sabato con trader life simulator 2 sviluppatori della dna army per avermi concessa la chiave del gioco come sempre ringrazio tutti quanti voi che vi iscrivete ai miei canali social e come sempre vi ricordo che nella descrizione del video oltre a trovare i link per seguire i miei canali social troverete un link che vi permetterà di acquistare questo ed altri giochi scontati fino al 70 per cento oltre naturalmente a campanellina se vuoi acquistare il vero cibo biologico italiano al 100 per cento visita il sito www.ipianibio.it ripeto www.ipianibio.it li trovate anche su facebook ed instagram mi raccomando amici ed amiche visitate il sito ed acquistate con grandissima fiducia come sempre naturalmente vi auguro buon sabato buon fine settimana e naturalmente saluto giglio e tutto il mitico staff dei piani bio vai applausi allora ragazzuoli se vi siete perso l'episodio precedente come sempre vi ricordo che trovate la playlist oltre naturalmente vi ricordo che tutti sabato uscirà un nuovo episodio di traiter life simulator 2 allora fra le una cosa un'altra nell'episodio precedente abbiamo sbloccato la possibilità di poter acquistare gli articoli per la casa oggi ragazzuoli faremo un altro acquisto usufruiremo di un altro sblocco dovuti ai progressi oggi naturalmente andremo a fare un acquisto che naturalmente faremo alla fine del video saluto naturalmente mister moreno e tuts e tuts vi auguro naturalmente buon sabato mi sembra di averlo detto ma sempre meglio ricordarlo e augurarvi buon fine settimana come sempre faccio naturalmente mi auguro che abbiate passata una bella settimana e vi siate divertiti saluto mister a ieri naturalmente e saluto tutti coloro che in questo periodo stanno facendo crescere questo canale vi ricordo come sempre che al raggiungimento dei 110 iscritti quindi 110 iscritti a questo canale ci sarà uno speciale dedicato a questo traguardo quindi mi raccomando iscrivetevi al canale attivate le notifiche lasciate tanti like al video mi raccomando e naturalmente condividete allora ragazzi andiamo intanto ad acquistare le scarpe andiamo a conoscere il nostro amico del negozio di scarpe oh ragazzi guardate guardate com'è bello diamo un'occhiatina ragazzi bello ovviamente noi al momento qui possiamo acquistare solo le scarpe andiamo dal nostro giovanni giovanni buongiorno buongiorno benvenuto a te e tutti gli amici del canale nel mio negozio benvenuti qui giova grazie comunque complimenti perché anche tu hai da essere sincero c'hai un bel look molto molto fashion 16 anni sono venuto per acquistare un po di articoli particolari le scarpette hashtag le scarpette tutta una parola va bene setup fai pure spendi mi raccomando spendi tanto tanto perché se non spendi e spandi non ti espandi bravo c'è una ragione qui ci scatta un bell'applauso vai come c'è il grande maggio che il saluto ragazzi visto che ci troviamo vediamo un po allora iniziamo a prendere io niente che è successo whatsapp whatsapp shop rating ecco qua allora questo è la presa che costerà un boccale va bene quindi questo probabilmente parte da un altro un altro fashion quindi abbiamo preso 2 3 e 4 quindi visto che ci troviamo non ce lo va a prendere vabbè già con un banon con non poche difficoltà comunque poi ci vediamo più avanti va bene setup naturalmente buon sabato amici mi raccomando iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto oh ma sembra che c'è una immagine di un viso giovanni sul cappellino comunque ciò mi ha fatto tantissimo piacere conoscerti poi ci becchiamo alla prossima grazie buon sabato e buona continuazione a tutti applausi vai Ah, Giovanni sei mitico Hashtag Giovanni sei mitico Vai Se到底 E nel frattempo ci ritiriamo E Andiamo subito subito Ad allestire Seppri in maniera Un pochettino Approssimativa la nostra postazione Ovviamente adesso dobbiamo fare Anche il pieno qui perché stiamo quasi stiamo quasi per rimanere a secco quindi se ne vanno sicuramente il centone i centaus hashtag centaus mamma mia 252 dollari a mano calma mamma mia ragazzi quanto c'è costato questo piano 252 dollari attenzione ragazzi questo è un vero flutto hashtag questo è un flutto andiamo dal nostro meccanico dai che questo che mi sa mi sa che oggi faremo molte più spese grazie assai ah lui ci ha fatto il rifornimento cento cento dollari di olio però per il momento staremo bene per un bel po' di tempo e ragazzi quanto caspita costa questa benzina comunque tornando a noi ragazzi vi auguro che viate passate un buon sabato pardon che viate passate un buon fine settimana naturalmente andiamo subito subito posizionare i nostri prodotti perché poi dobbiamo iniziare subito la vendita qua ecco qua ancora un pochettino tutto così poi vedremo più avanti nel corso dell'avanzamento di carriera poi sbloccheremo altri features quindi scopriremo altre cose interessanti queste tutte scarpe dello stesso verso sì quindi la spazio mi sa che scarsisce ragazzi mi sa proprio che scarsisce ci abbiamo oh queste sono quelle quelle di quel famosissimo brand di basket che non posso non posso nominare hashtag non posso nominare vai tutta una parola eccole qua proprio queste non diciamo qual è amore no guarda quant'è guarda quanti scarpe ti puoi venire a prendere qua vedi stanno tutte esposte tutto per te qua ok perfetto allora diamo un'occhiadina a cosa manca nel frattempo perché ovviamente ah vediamo prima come siamo messi attenzione allora cibo e acqua quindi qua mi sa che dobbiamo andare anche da Jabber a fare un po' di rifornimento dell'acqua banana bread vai è rimasta l'ultima bottiglina d'acqua prendiamo questa qua che costa più cara ma mi fa un sacco di rumore questo sembra un po' scostumato comunque allora ragazzi io direi che quasi quasi ci becchiamo ci becchiamo da Jabber facciamo la plin plin hashtag plin plin complimenti a Moreno naturalmente perché l'amico Moreno ha indovinato 9 hashtag su 10 quindi bravo Moreno bravo hashtag bravo Moreno bravo applausi vai ci becchiamo naturalmente direttamente dal nostro Jabber certo ragazzi che con quello che abbiamo speso fra scarpe ma soprattutto fra il pieno di benzina e la manutenzione ragazzi abbiamo speso veramente un sacco un sacco di soldi salutiamo il nostro mitico Jabber buongiorno Jabber buongiorno e buon sabato a tutti applausi vai ragazzi ma voi vedete come ci trovano gusto si stanno piano piano si stanno in bat non è della serie bravi bravi fate bene facciamo un bell'applauso a tutti gli iscritti del canale tutti gli affissionati del canale a tutti coloro che naturalmente vengono a guardare i miei video vai applausi jabber io faccio il soldi giretto naturalmente buon sabato anche a te e sei sempre fresco fresco bello ho notato che il giubino l'hai aperto bravo bravo ragazzi qua ci dobbiamo un attimino essere sempre molto eleganti e fashion va buono jabber ci faccio la spesa poi ci becchiamo all'uscita ok passa per la casa e paga ok jabber grazie allora vediamo un po' no fat milk quindi manca il latte senza grassi no fat milk no fat milk eccolo qua poi dobbiamo cercare dobbiamo cercare di mantenere la cosa poi milk cookies questo se no fruit ice cream fruit ice cream cherry smoothie vediamo poi cherry smoothie cherry smoothie poi dark ice cream dark ice cream fruit ice cream yeah ammazza quanto costino ragazzi vai ci becchiamo direttamente quando sto per stiamo per partire allora ragazzi ho deciso un attimino di anticipare il il taglio perché sto spendendo un botto di soldi a questo giro quindi hashtag morino paga per noi hashtag morino paga per noi vai applausi povero morino ragazzi quando quando ci stiamo costando naturalmente salutiamo e abbracciamo il nostro amico morino il nostro mister yeah yeah tutti quelli che naturalmente vengono a sbirciare allora abbiamo stiamo facendo un bel po' di spese ragazzi perché mi sono reso conto che mancano un sacco un sacco di cose quindi oggi facciamo un mega riassortimento mega riassortimento allora cosa che mancava ehm litter care e poi ah l'ammorbidente ok software ammorbidente di ammorbidente yeah ammazza questa non può mancare che manca qua ok io direi di andare subito al negozio perché abbiamo veramente un sacco un sacco di cosa succede da fammi saldare fammi saldare fammi saldare a jab jabber grazie di tutto poi ci becchiamo con calma grazie ancora di aver spesso tutti questi soldini grazie a te jabber buona continuazione grazie buona continuazione a te a tutti gli amici che stanno guardando questo video ciao jabber grazie ciao ciao oh ragazzi salutiamo jabber naturalmente e devo essere sincero abbiamo speso un sacco di soldini oggi eh quanto mi costa anzi quanto ci è costata la manutenzione per l'auto eh però dovremmo star bene per un bel po' di tempo perché comunque quest'auto da quando ho ricominciato la serie non l'ho manutenuta manutenuta hashtag manutenuta e quindi ci sta che abbiamo affrontato questa spesa che era giusta altrimenti avremmo dovuto poi affrontare un'ulteriore grande spesa nel caso in cui l'auto si fosse fermata in panne allora giusto in tempo questo qua questa è cola quindi deve andare qua sotto allora ragazzi io direi di iniziare un bel hyperlapse siete pronti? vij dai tu il via tre due uno ziutab vai con l'hyperlapse di iniziare allora ragazzi io mi sono mi sono reso conto che il tempo a nostra disposizione è volato via quindi ci stiamo accingendo naturalmente a concludere questo video come sempre vi chiedo la gentilezza di lasciare un bel like al video di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e poi naturalmente vi ricordo che questo video è stato editato con filmora wondershare filmora che è un software di editing video leggero intuitivo ed ultra aggiornato come sempre vi ricordo che vi lascio nella descrizione del video vi lascio il link in riferimento quindi by core andolini ziodab adesso ci congediamo vi ricordo naturalmente se volete acquistare cibo biologico italiano campanellina visitate il sito www.ipianibio.it mi raccomando acquistate con fiducia iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivate le notifiche mi raccomando date un'occhiata link di filmora mi sembra di aver detto tutto quindi vi ringrazio ancora una volta aver guardato questo video grazie mille a tutti thank you so much ragazzi state ben bene state voi buono grazie applausi vai grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.